il redattore capo della gazzetta di anne correva nervosamente su e giù per la vasta sala della redazione teneva un numero della gazzetta in mano allora uscito dal torchio e la citava furiosamente gridando e bestemmiando a scatti il redattore era un omiciatolo dal volto angoloso magro ornato ad una barbetta nera di un paio d'occhiali d'oro sbatteva i piedi con forza sul tavolato della stanza sgambettando e girando intorno alla lunga tavola coperta di giornali spiegati di bozze di stampa e di fogli di originale che stava in mezzo alla stampa vicino a questa tavola con una mano appoggiata sull'orlo di essa stava in piedi l'amministratore un grande uomo biondo non più giovane il quale osservava il redattore coi suoi occhi allegri e chiari mentre un sorriso si disegnava sul suo grosso faccione l'impaginatore uomo angoloso dalla faccia gialla e dal petto concavo vestito di una specie di zimarra bruna sporchissima e troppo lunga per la sua statura si stringeva paurosamente contro la parete alzava le sopracciglia e spalancava gli occhi verso la soffitta come se volesse ricordarsi di qualcosa o riflettere profondamente poi un momento dopo sospirava malinconicamente ed abbassava il capo sul petto sotto la porta stava il fattorino della redazione urtato ad ogni momento da individui dal volto accigliato e preoccupato i quali entravano ed uscivano la voce del capo redattore e rosa e chiara le suonava con forza in mezzo a quell'ambiente facendo fare una smorfia nervosa all'amministratore e trasalire di paura l'impaginatore ma guardate che insolenza gli farà un processo a questo mascalzone a questa canaglia è venuto il proto fate venire qui tutti i compositori ne han già dato l'ordine ma figuratevi un po quel che avverrà adesso tutta la stampa ne parlerà sarà uno scandalo in tutta la russia non lascerò passare la cosa liscia potete esserne certi che canaglia e con le braccia alzate al di sopra della testa tenendo ancora il foglio spiegazzato fra le mani il redattore si fermò in quella posizione come se avesse voluto avvolgersi il capo nel giornale e mettersi così al sicuro contro lo scandalo previsto ma incominciate col trovare il colpevole consigliò l'amministratore con tono asciutto sì sicuro che lo troverò signor mio altro che lo troverò ricominciò a correre per la sala stringendosi ora la gazzetta al seno ora stiracchiandola con rabbia e dopo averlo trovato lo metterò alla porta ebbene e questo proto non viene mai ah eccoli qui favorite signori favorite pure gli umili comandanti dei soldatini di piombo sfilate signori miei sfilate l'uno dopo l'altro tutti i compositori entravano nella sala sapevano già di cosa si trattava ed ognuno era già pronto alla sua parte di accusato perciò i loro visi sporchi dalla polvere di piombo erano tutti come congelati in un uguale immobilità si raggrupparono tutti in un angolo della sala il redattore capo si fermò davanti ad essi con le braccia di giornale dietro la schiena era di statura più bassa della loro e dovette alzare la testa per guardarli fece questo movimento in modo troppo brusco e i suoi occhiali saltarono ad un tratto sulla fronte credendo che stavano per cadere alzò rapidamente il braccio ma in quello stesso istante essi ricaddero sulla radice del naso che il diavolo vi! gridò egli digrignando i denti sui musi sporchi dei compositori passò un allegro sorriso anzi si udì una risata soffocata non vi ho chiamato qui per vedere i vostri denti gridò rabbiosamente il direttore facendosi pallido mi pare che abbiate già fatto abbastanza scandalo col giornale se in mezzo a voi ci sta un onestuomo un uomo d'onore che capisce cosa sia un giornale cosa sia la stampa e gli dirà che ha fatto questo qui nell'articolo di fondo ed il redattore si mise a spiegare il giornale con le mani che gli tremavano dalla rabbia ma di che cosa si tratta dunque? chiese una voce nella quale non c'era altra espressione che quella della curiosità ah non lo sapete? ebbene eccovi servito ecco ecco qui la nostra legislazione sulle fabbriche è sempre stata per la stampa un soggetto di discussioni animate cioè di chiacchiere senza fine di stupide filastrocche e di tanta fere senza costrutto alcuno ecco sta qui siete contenti? stupide filastrocche chi ha aggiunto queste parole? e tanta fere senza costrutto che bello stile e quanto spirito ma bene si può sapere chi di voi è l'autore di queste filastrocche e di queste tanta fere quest'articolo di chi è? è vostro? allora siete voi l'autore di queste belle frasi? rispose la voce calma che aveva già una volta parlato al redattore era un'impertinenza belle buona e tutti pensarono che il colpevole era belle trovato ci fu un movimento nella sala l'amministratore si avvicinò al gruppo il redattore si alzò sulla punta dei piedi col desiderio di gettare al di sopra delle teste degli operai un'occhiata sulla faccia di colui che aveva parlato il gruppo dei compositori si era un po' diradato e davanti al redattore stava ora un robusto giovanotto in camiciotto blu dal volto butterato dal vaiolo contornato da ricci ribelli stava lì con le mani profondamente conficcate nelle tasche del suo calzone fissando con indifferenza i suoi occhietti grigi e maliziosi sul redattore capo e sorrideva impercettibilmente nella sua barba bionda tutta rizzoli tutti lo guardavano l'amministratore con le sopracciglia grottate il redattore capo con stupore e collera l'impaginatore con un sorriso discreto i compagni con una soddisfazione mal dissimulata mi sta a timore e da curiosità siete dunque voi? domandò finalmente il redattore mostrando a tito il compositore butterato e strinse le labbra facendo una smorfia gravida di minacce io? rispose l'altro con un sorriso particolarmente semplice ed offensivo ah fortunatissimo siete proprio voi e perché avete aggiunto quelle parole? sei lecito chiedervelo ho forse detto che le avevo aggiunte? domandò il compositore e guardò i compagni è lui senza dubbio Mitri Pavlovich disse l'impaginatore indirizzandosi al redattore ebbene son io ammettiamolo pure acconsentì il compositore con una certa buonarietà poi fece un gesto di non curanza con la mano e sorrisse di nuovo tutti tacquero di nuovo nessuno si aspettava una confessione così pronta e così calma e le cose imprevedute fanno sempre una certa impressione perfino l'ira del redattore si cambiò per un momento in stupore lo spazio si allargò ancora intorno all'operaio butterato l'impaginatore si ritirò vivamente dietro la tavola i compositori si scostarono maggiormente hai fatto la bella posta non è vero? con premeditazione domandò l'amministratore sorridendo ed esaminandolo attentamente con i suoi occhi rotondi rispondete dunque gridò il redattore facendo un gran gesto col suo giornale tutto quel cito non gridate non ho paura di voi molta gente ha già gridato contro di me ma non ne ho mai ricevuto nulla e negli occhi del compositore si è acceso una piccola fiamma sfacciata infatti egli continuò cambiando posizione e rivolgendosi questa volta all'amministratore è con premeditazione che ho aggiunto quelle parole sentite disse il redattore indirizzandosi agli astanti ma che razza di pupazzo sei dunque gridò l'amministratore riscaldandosi ad un tratto capisci il torto che mi hai fatto? a voi niente affatto anzi credo che abbia aumentata la vendita del giornale in quanto al signor redattore infatti un affaruccio di questo genere non deve essere di suo gusto il redattore fu come pietrificato dall'indignazione restò ritto davanti a quel uomo calmo e cattivo i suoi occhi dettero lampi ma non trovò le parole per esprimere i sentimenti che lo sconvolgevano la pagherai cara amico riprese l'amministratore con voce sdegnosa ma calmandosi subito dopo si dette un colpo sul ginocchio in fondo era contento e dell'avvenimento e della risposta insolente dell'operaio il redattore capo l'aveva sempre trattato con una certa superbia senza darsi la pena di dissimulare la coscienza della propria superiorità intellettuale ed ecco che lui stesso vanitoso ed arrogante com'era si vedeva vinto e da chi ti conceremo per le feste per questa tua impertinenza aggiunse egli pare anche a me che non lascerete la cosa passare liscia confermò il compositore queste parole ed il tono col quale furono pronunciate fecero di nuovo impressione gli operai si guardarono fra di loro l'impaginatore alzò le sopracciglia e per coci dire si raggrinchiò tutto il redattore fece due passi indietro si appoggiò alla tavola ancora più sconcertato ed offeso che irritato e vi rimase con gli occhi fissi sul nemico come ti chiami? domandò l'amministratore tirando un tacquino dalla tasca Nikola Gvostev Vasili Ivanovic disse subito l'impaginatore e tu Arvo di Giuda Escariote taci quando non ti si domanda nulla disse ruridamente l'operaio colpevole guardando di sbieco l'impaginatore ho una lingua e so rispondere per conto mio sì mi chiamo Nikola Semjanovic Gvostev il mio domicilio lo troveremo da noi interruppe l'amministratore e ora vattene al diavolo andatevene tutti andatevene tutti i compositori uscirono lentamente a passi rumorosi dalla sala Gvostev camminava dietro i compagni aspetta un momento disse il redattore a voce bassa ma distinta e stese il braccio verso Gvostev costui si voltò si appoggiò allo stipite della porta e arricciandosi la barbetta fissò gli occhi insolentemente in faccia al redattore ecco quello che ti voglio domandare incominciò il redattore voleva essere calmo ma non si riusciva gli si alterava la voce dalla parola passava il grido hai confessato che nel fare quello scandalo lo facevi prendendo di mira la persona sì? cosa significa questo? ti tratta dunque di una vendetta contro di me? perché? te lo domando puoi rispondermi Gvostev fece un'alzata di spalle strinse le labbra abbassò il capo e stette un momento in silenzio l'amministratore batteva il piede a terra con impazienza l'impaginatore allungava il collo e il redattore si mordeva le labbra facendo scricchiolare nervosamente le dita tutti lo aspettavano ebbene già che lo volete ve lo dirò soltanto siccome non sono un uomo istruito forse mi spiegherò male e non mi capirete ebbene in questo caso scusatemi ecco dunque come va la faccenda voi scrivete una quantità di articoli di ogni specie consigliate a tutti quanti l'amore del prossimo e così di seguito non so dirvi tutto ciò che predicate non sono un letterato ma sapete certamente meglio di me so che scrivete tutti i giorni allora io leggo i vostri articoli discutete sul nostro conto sul conto di noi altri operai e io leggo tutto ciò e sono disgustato da questa lettura perché sono tutte chiacchiere e null'altro parole 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 senza vergogna Mitri Pavlovich scrivete non rubare e cosa si fa in questa vostra stamperia la settimana passata Kiriakov ha lavorato tre giornate e mezza e ha guadagnato tre volte 80 copechi poi gli è venuta una malattia allora sua moglie viene all'amministrazione a prendere il denaro e il direttore le dice che non spetta a lui di pagare ma che invece è lui che deve ricevere da lei un rubo e venti come multa proprio altro che non rubare allora perché non scrivete articoli sopra queste cose e sul modo quel quale il direttore ingiuria i ragazzi e li batte per la minima mancanza non potete scrivere queste cose perché fate parte della stessa politica scrivete soltanto che la gente trova difficoltà a vivere bene e se lo scrivete vi dirò io il perché e perché non sapete trovare altra cosa da dire semplicemente questo ed è per questo che non sapete vedere le crudeltà che avvengono sotto il vostro naso mentre raccontate benissimo le crudeltà dei turchi forse che tutti i vostri articoli non sono fandonie è da molto tempo che mi è venuta la voglia di introdurre per vergogna vostra qualche parola vera nei vostri articoli e avrei potuto far meglio di quel che ho fatto Gvozdev si sentiva un eroe si raddrizzò fieramente alzò il capo e senza nascondere il suo trionfo guardò in faccia il redattore questi si strinse contro la tavola di cui prese l'orlo con le mani nervose e si buttò indietro ora impallidiva ora arrossiva ma sorridava sempre con alia disprezzante e confusa irata e dolorosa le palpebre si aprivano e si chiudevano alternativamente sui suoi occhi dilatati un socialista domandò a mezza voce l'amministratore con spavento e curiosità rivolgendosi al redattore in quale sorrise a fior di labbra macchinò la testa e non disse nulla l'impaginatore si era scostato dagli altri uomini e si era avvicinato alla finestra dove stava un vaso con un enorme rododendron in quale gettava sul tavolato un disegno d'ombre e gli si era posto dietro a quel vaso e da quel sito guardava la scena con i suoi occhietti neri e mobili come quelli di un sorcio sarà in essi l'espressione d'un'attesa impaziente e ogni tanto vi si accendeva una fiammella di gioia l'amministratore guardava il redattore costrui lo sentì alzò il capo e con un lampo di inquietudine negli occhi e un tremito nervoso nel volto gridò dietro a Gvosdev che se ne andava permettete aspettate mi avete offeso non avete il diritto spero che lo sentite vi sono grato della vostra lealtà nelle vostre spiegazioni ma lo ripeto voleva parlare con ironia ma invece di questa c'era nelle sue parole qualche cosa che suonava male che esprimeva un sentimento falso fece una pausa per mettersi al diapason di una difesa degna di lui e di quel giudice il cui diritto di giudicarlo non gli si era mai affacciato alla mente sono cose che si sanno fece Gvosdev con un cenno della testa ha sempre ragione colui che sa parlare molto il ritto sulla soglia gettò intorno a sé un'occhiata che mostrava chiaramente il suo desiderio impaziente di andarsene no permettete riprese il redattore capo alzando la voce agitando il brazzo avete espresso un'accusa contro di me e prima ancora di esprimerla mi avete punito arbitrariamente per la colpa che secondo voi avrei commesso contro di voi ho il diritto di difendermi vi prego di ascoltarmi ma che bisogno avete di preoccuparvi di me difendetevi davanti all'amministratore se sentite questo bisogno a che pro parlare con me se vi ho offeso citatemi davanti al giudice ma difendervi oibo addio aggiunse poi voltando bruscamente le spalle e con le braccia dietro la schiena uscì dalla sala portava grossi stivaloni e siccome camminava pesantemente i suoi passi risuonavano sonori per la gran sala di redazione che somigliava alquanto a una tettoia ecco una bella storia e con il pepe dentro esclamò l'amministratore allorché Gvozdef ebbe chiusa la porta dietro le sue spalle ma Sirivanovic io non c'entro in alcun modo in questa brutta faccenda disse l'impaginatore allargando le braccia con aria contrita e avvicinandosi pian piano al direttore impagino la composizione ma non posso mica sapere ciò che il compositore vi ha ficcato dentro sto qui in piedi tutta la notte io sto qui mentre in casa mia moglie è malata e i bimbi non sono sorvegliati ne ho tre posso dire che do il mio sangue per trenta rubli al mese ho ben detto a Fyodor Pavlovich allorché accettava Gvozdef come operaio nella tipografia Fyodor Pavlovich dicevo io conosco Nicola da bambino e devo dirvi che Nicola è un burlone è un ladro un uomo senza un bricciolo di coscienza è già stato davanti al giudice conciliatore dicevo io ed è anche stato in carcere perché c'è stato chiese il redattore con aria pensosa senza guardare l'impaginatore per dei colombi cioè non già per i colombi ma per aver rotto delle serratura in una sola notte ha rotto le serrature nelle porte di sette colombai ed ha ridato la libertà a tutti i colombi anch'io ne avevo un paio erano grigi uccelli rari e anch'essi si sono perduti ha rubato? domandò l'amministratore con curiosità no non è quello alla sua partita è stato giudicato anche per furto ma è stato dichiarato innocente non è un ladro è semplicemente un burlone ha fatto prendere il volo ai colombi ed eccolo contento e si burla di noi altri che abbiamo la passione dei colombi hanno già bastonato più di una volta ed una volta ha avuto una batosta tale che ha dovuto andare all'ospedale ma appena uscito eccolo che ha fatto venire una quantità di diavoli nella stufa di una mia comare di diavoli? domandò l'amministratore sorpreso quante sciocchezze mormorò il redattore facendo un'alzata di spalle e con la fronte corrugata si rimise a riflettere mordendosi di nuovo le labbra è la pura verità non ho saputo esprimermi bene disse l'impaginatore confuso ecco vedete Nicolca è un burlone e ne sa di tutti i colori conosce la tipografia ed è incisore ha anche lavorato con un ingegnere specialista di canali idraulici dunque la mia comare ha una casa propria ed è vedova di un pop l'ha chiamato per far fare una stufa ebbene l'ha ricostruita secondo tutte le regole dell'arte soltanto vedete che mascalzone ha murato in una parete della stufa una bottiglia con del mercurio e degli aghi e con qualche altra cosa che vi si mette dentro questo apparecchio produce un rumore un rumore tutto speciale sapete una specie di gemito e di sospiro ed allora si dice che la casa è visitata dai diavoli quando hanno acceso la stufa il mercurio si è riscaldato nella bottiglia e si è messo a fermentare allora gli aghi hanno incominciato a raschiare il vetro come se qualcuno digrignasse i denti oltre agli aghi vi si mettono pezzi di ferro vecchio i quali producono suoni diversi l'ago produce il suo il chiodo il suo e ne risulta una specie di musica diabolica mia comare è stata ridotta a mettere la casa in vendita ma nessuno ha voluto comprarla a chi può piacere una casa frequentata dai diavoli ha fatto dire tre tedeum con acqua benedetta è stato inutile piangeva povera donna ha una figlia da maritare delle galline quasi un centinaio di galline due vacche insomma ha una casa ben ordinata ed ecco che le vengono ai diavoli aveva perduto la testa faceva compassione solo a vederla ed è anche nicolca che l'ha salvata lo si può dire dammi ha detto cinquanta rubli e cazzerò i diavoli per cominciare gli ha dato venticinque rubli e poi quando si è visto la bottiglia e si è saputo di che si trattava allora buonanotte non ha voluto più dargli un solo copeco anzi da donna prudente voleva ricorrere alla polizia ma tutti gliel'hanno sconsigliata quel mariguolo di nicolca ne sa tanti di questi scherzi ed è di uno di questi amabili scherzi che io sono ora la vittima proprio io esclamò rabbiosamente il redattore e strappandosi dal suo posto si rimise a correre in tutti i sensi per la stanza oddio mio che cosa sciocca è stupida è triviale via non prendete la cosa troppo sul serio disse l'amministratore con fare conciliante farete una rettifica spiegherete la cosa a modo vostro e sarà finita e bisogna pur dirlo questo giovanotto è interessantissimo che il diavolo se lo porti ha messo dei diavoli nella stufa in quanto poi a fargliela pagare gliela faremo pagare certo ma il briccone è intelligente ed ispira come si dice e l'amministratore fece scoppiettare le dita al di sopra della sua testa e guardò la soffitta è cosa che vi diverte gridò il redattore con tono iroso e perché no non è forse divertente e vi ha dipinto in modo abbastanza somigliante è un mascazzone che ha spirito di intelligenza ribatte l'amministratore a che articolo del codice pensate di ricorrere per fare i conti con lui il redattore corse vivamente verso l'amministratore sappiate o signore che non farò nessun conto con lui nessuno e non posso farlo Vassili Ivanovic giacché quel fabbricante di diavoli ha ragione avvengono cose strane nella vostra tipografia ed io rappresento qui la parte dello stupido per causa vostra sì ha ragione ha ragione mille volte anche in quella piccola aggiunta che ha inserito nel vostro articolo domandò con voce pungente l'amministratore e fece una smorfia ironica ebbene che cosa sicuro anche in quella capite dunque Vassili Ivanovic siamo un giornale liberale che tira a duemila copie comprese le spedizioni gratis mentre il nostro concorrente tira a novemila ebbene e poi non c'è poi è tutto il redattore fece un gesto di disperazione con le braccia e si mise di nuovo con gli occhi spenti a camminare in su e in giù per la stanza è una posizione invidiabile brontolava egli stringendosi ogni tanto nelle spalle una posizione proprio invidiabile perseguitato da tutte le parti in una volta tutti i cani contro uno solo e questo solo con la museguola e quel miserabile operaio ah dio mio ma mandatelo a tutti i diavoli e non ci pensate più consigliò basilivano dice con un sorriso bonario come stanco di tutte quelle emozioni e seccato di tutta quella storia è una cosa che è venuta e che passerà e vi riabiliterete presto l'affare in sostanza è più comico che drammatico con un gesto conciliante alzò la sua mano glassoccia e si diresse verso la porta che conduceva al suo ufficio a un tratto quella porta si aprì e sulla soglia apparve Gwosdef costui teneva il suo berretto in mano e sorrideva ma con un'aria amabile sono tornato per dirvi signor redattore che se avete l'intenzione di intentarmi un processo vi prego di dirmelo subito da che siccome me ne vado da qui capirete non vorrei essere ricondotto dai carabinieri vattene di qui urlò il direttore quasi piangendo di rabbia e si precipitò verso la parte più lontana della stanza allora siamo pari e pace disse Gwosdef rimettendosi il berretto sulla testa poi si voltò tranquillamente verso l'uscio e sparve oh che canaglia mormorò Basilivanovic guardando Gwosdef che se ne andava e senza frettarsi con un sorriso sulle labbra incominciò ad infilarsi il soprabito un paio di giorni dopo la scena che abbiamo descritta Gwosdef vestito di un camiciotto blu stretto alla vita da un cinto di cuoio con la testa coperta di un berretto bianco che gli cascava sulla nuca e un grosso bastone nodoso in mano se ne stava passeggiando lentamente sulla montagna così si chiamava un'altura che sormontava il fiume al quale si poteva scendere per un leggero pendio in tempi antichi quella sponda era coperta di un bosco ceduo ma poi era stato quasi tutto tagliato e non ne rimanevano che poche vecchie querze e faggi piegati dal vento nuovi steli si avvolgevano intorno alle loro radici cespugli circondavano i loro tronchi e dovunque in mezzo al verde il pubblico per passare aveva formato sentieri che scendevano tutti verso il fiume un largo viale attraversava poi orizzontalmente la montagna ed è più particolarmente lì che la gente veniva a passeggiare formando due file che procedevano in senso inverso l'una dall'altra piaceva a Gvozdef di andare a zonzo per quel viale di andare e tornare insieme al pubblico di sentirsi libero come tutti gli altri di aspirare liberamente l'aria profumata dall'odore delle foglie di muoversi a suo piacere di far parte di qualcosa di grande e di sentirsi l'eguale di tutti quel giorno egli era un pochino brillo e il suo volto butterato ed ardito aveva l'espressione benevole e socievole delle ciocche di capelli castagni si arricciavano sulla sua tempia sinistra e si rizzavano in alto facevano graziosamente risaltare gli orecchi e si posavano elegantemente sull'orlo del berretto Gvozdef aveva il suo aspetto spavaldo di robusto operaio contento di se stesso pronto a cantare a ballare a fare a pugni secondo le circostanze ed a bere qualche bicchierino di quello buono sembrava che la natura dandogli quelle ciocche ricciute avesse voluto presentare al mondo Nicola Gvozdef come un giovanotto pieno di fuoco e conscio del proprio valore gettandosi attorno delle occhiate approvatrici Gvozdef urtava in modo tutto pacifico i viandanti i quali sopportavano quegli urti senza risentirsene camminava sulle vesti del signore si scusava cortesemente inghiottiva come tutti gli altri la sua porzione di densa polvere e si sentiva felice e contento attraverso il fogliame si vedeva dall'altro lato del fiume nei prati tramontare il sole il cielo da quel lato era color porpora caldo e mite pareva invitare la gente verso quello che pareva essere il limite del verde scuro dei campi sotto i piedi dei viandanti si allungavano le ombre di tutti gli oggetti e la folla le calpestava senza saperne la bellezza la sigaretta posta all'angolo sinistro delle sue labbra dava a Gwosdef un'aria elegante e alquanto fatua lasciava sfuggire il fumo dall'angolo destro esaminava il pubblico e aveva una voglia matta di conversare con qualcuno bevendo un bicchiere di birra nel caffè al piede della montagna ma non incontrava alcun conoscente e non trovava alcuna occasione propizia per attaccare discorso con uno sconosciuto malgrado il giorno festivo e la temperatura primaverile i passanti parevano di cattivo umore e benché avesse gettato parecchie occhiate in faccia alle persone che camminavano vicino a lui con un sorriso bonario e l'espressione di un uomo dispostissimo a fare amicizia nessuna rispondeva al suo umore socievole ad un tratto fra la quantità di nuche che si vedeva davanti passò la nuca lui ben nota del redattore capo Dimitri Polovic Istomin Gwosdef sorrise allegramente al ricordo del suo trionfo su quel signore e si mise a guardare con piacere il cappello grigio di Dmitri Pavlovich talvolta quel cappello di forma bassa scompariva dietro ad altri cappelli e ciò inquietava non si sa perché Gwosdef il quale si alzava allora sulla punta dei piedi per rivederlo e quando l'aveva ritrovato sorrideva di nuovo così così mentre seguiva con gli occhi il redattore capo Gwosdef camminava e si ricordava dell'epoca in cui egli era il piccolo Nicolchia figlio del Magnano ed il redattore era Mitka figlio della Diaconessa avevano ancora un altro compagno che avevano soprannominato all'uzzuccheraio ed un altro ancora Vasca Zhukov figlio di un impiegato governativo che abitava nell'ultima casa della strada era una buona vecchia casa tutta coperta di muschio alla quale erano appiccicate da tutte le parti altre casupole costruite dopo il padre di Vasca aveva un magnifico stormo di colombi si stava così bene nel cortile di quella casa per giocare a mosca cieca perché il padre di Vasca un avarazzo riconservava un ammasso di vecchie cose carrette rotte casse barili sfondati adesso Vasca il medico del distretto e sul sito occupato allora dalla vecchia casa stanno ora i depositi della ferrovia e si ricordava pure degli altri compagni tutti i ragazzetti di otto o dieci anni tutti dimoravano allora all'estremità della città in una strada umida vivevano in ottima intelligenza fra di loro e in perpetua ostilità con i monelli delle altre vie vicine saccheggiavano gli orti ed i giardini giocavano agli agliossi e agli altri giochi infantili andavano a scuola un venticinque anni erano passati da quell'epoca in quel tempo ed era passato c'erano monelli berichini e sporcaccioni come Nicolca come il figlio del Magnano i quali sono oggi uomini importanti Nicolca si è impaniato in quella strada umida mentre essi terminata la scuola elementare avevano continuato gli studi al ginnasio lui invece no se tentasse di conversare col redattore digli buonasera e intavolare una conversazione per incominciare domandargli scusa dello scandalo e poi parlare ma così in generale della vita il cappello del redattore appariva e scompariva sempre davanti agli occhi di Gvozdeff come se avesse voluto attirarlo e Gvozdeff si decise il redattore camminava appunto in quel momento solo in uno spazio libero lasciato per poco sgombro dalla folla camminava sulle sue gambe esili in un calzone chiaro mentre girava la testa ora da un lato ora dall'altro guardando la gente con i suoi occhi da miope Gvozdeff gli si accostò e gettò un'occhiata amabile spiando un momento favorevole per salutarlo e nello stesso tempo era appunto dall'acuto desiderio di sapere in quel modo il redattore lo avrebbe accolto buonasera Mitri Pavlovich il redattore si voltò sollevò leggermente il cappello con una mano si acconciò gli occhiali sul naso dall'altra riconobbe Gvozdeff e si fece serio serio ma questa circostanza non sconcertò affatto Nicola Gvozdeff al contrario si chinò con un'aria ancora più amabile verso il redattore ed esalando l'odore dell'acquavite che aveva bevuto gli domandò a bruciapelo state facendo la vostra pazseggiatina il redattore si fermò un istante le labbra e le narici gli fremettero dal disgusto e con aria asciutta gli buttò in faccia queste parole cosa desiderate io nulla è così fa bel tempo oggi e avrei piacere di parlare con voi di quell'affare non desidero parlare con voi di alcun affare dichiarò il redattore affrettando il passo Gvozdeff lo imitò non desiderate comprendo perfettamente siete nel vostro diritto comprendo benissimo anche questo già che vi ho svergognato è naturale che l'abbiate con me siete ubriaco disse il direttore fermandosi e se non mi lasciate in pace vi farò arrestare dalla polizia Gvozdeff si mise a ridere e perché mai il redattore gli settò di sbieg uno sguardo pieno d'angoscia come chi si trova in una posizione spiacevole e non sa come uscirne il pubblico li guardava già con curiosità parecchie persone porgevano le orecchie fiutando uno scandalo Istomin si guardava intorno confuso ed imbarazzato Gvozdeff se ne accorse andiamo un po' in disparte volete disse egli e senza aspettare il suo consenso spinse con la spalla Istomin fuori del viale principale verso un sentiero che scendeva il pendio tra i cespugli il redattore non protestò contro quell'abile manovra forse perché non ebbe il tempo forse perché sperava una volta fuori del pubblico di potersi più facilmente liberare dell'importuno ex compositore camminava lentamente con precauzione ponendo il bastone a terra e Gvozdeff lo seguiva dicendo come se parlasse al suo cappello le parole seguenti ecco a poca distanza da qui c'è un albero caduto sul quale potremo sederci voi metri Pavlovich non dovete essere in collera con me scusatemi l'ho fatto per dispetto talvolta noi altri siamo tormentati da una collera tale che non la si può neanche annegare nel vino ebbene in un momento di quella specie si va al punto di fare uno scherzo di cattivo genere a una persona qualunque di dare uno schiaffo ad un passante o qualcosa di simile non mi pento quel che è fatto è fatto ma è possibilissimo che io abbia oltrepassato i limiti che io sia andato troppo oltre sia che il direttore fosse commosso da quella franca spiegazione sia che la persona di Gwosdef avesse svegliato la sua curiosità sia infine che avesse capito che non c'era mezzo di sbarazzarsi da un uomo simile fatto sta che gli chiese di che volete parlare ma così di tutto la mia anima si rattrista perché risente l'offese che le si fa sediamoci qui non ho tempo lo so il giornale mangerà divorerà la metà della vostra vita ci consumerete la salute capisco perfettamente lui ha il suo denaro nel giornale vuoi il vostro sangue ecco gli avete già sacrificato gli occhi a forza di scrivere sedetevi davanti ad essi lungo il sentiero giaceva un grosso tronco d'albero avanzo a metà imputridito di una vecchia querza i folti rami di un nocciolo si abbassavano al di sopra di quel tronco formando un tetto di verdura attraverso i rami si vedeva un po' di cielo già invaso dai colori sbiaditi del tramonto un forte odore di piante riempiva l'aria gvosdef si sedette sul tronco caduto rivolgendosi al redattore che stava ancora in piedi guardandosi intorno con aria indecisa si mise a parlare ho alzato un po' col gomito quest'oggi il vivere mi dà noia mitri paulovice i miei compagni e gli operai non fanno più per me non so com'è avvenuto ma me ne sono distaccato ho in testa una direzione di idee affatto differenti vi ho veduto questa sera e mi sono ricordato che anche voi siete stato il mio compagno si mise a ridere perché il direttore lo guardava con cambiamenti di fisionomia così rapidi che il suo volto assumeva infatti espressioni ridicole il vostro compagno e quando oh molto tempo fa mitri paulovic dimoravamo nella strada umida ve ne ricordate alla distanza di una casa uno dall'altro ed in impetto a noi c'era Micchka il magnano attualmente Mikhail Yefimovich Krulev giudice istruttore il quale viveva con suo padre quel buomo così severo vi ricordate Yefimich che ci ha così spesso tirato per i capelli ma sedetevi il redattore fece un leggero cenno con la testa e si sedette accanto a Gwostef lo guardava come chi vuol ricordarsi di qualche cosa dimenticata da lungo tempo e si stropicciava la fronte e Gwostef continuava ad evocare i suoi ricordi che buona vita facevamo allora e perché mai l'uomo non rimane fanciullo tutta la vita si fa grande perché per poi scomparire nella terra tutta la vita non fa altro che subire ogni specie di sventura alla fine si nasprisce si abbruttisce che farsa eccolo che vive vive e alla fine di questa sua vita nient'altro che sciocchezza una vara e poi nulla invece in altri tempi vivevamo senza l'ombra di un'idea triste tutto era gaio eravamo veri uccelletti correvamo qua e là scalavamo le siepi per andare a cogliere le frutta degli alberi vi ricordate di quel giorno in cui nell'orto della Petrovna in una vostra escursione vi ho gettato un cetriolo in faccia vi siete messo a gridare e a piangere io sono fuggito a gambe elevate poi siete venuto con vostra madre a casa mia per legnarvi a mio padre e che mio padre mi ha frustato di santa ragione e misca oggigiorno Michael Yefimovic il retratore ascoltava e sorrideva senza volerlo avrebbe ben voluto restare serio e conservare la propria dignità davanti a quel uomo che si mostrava propenso alla familiarità ma vi era qualche cosa di commovente in quei racconti dei giorni sereni dell'infanzia e nel modo in cui Kvostov parlava le intonazioni che potevano minacciare l'amor proprio di Mite Pavlovich non suonavano ancora troppo penosamente offensive e poi si stava così bene su quel sito al di sopra di loro la sabbia del viale superiore strideva sotto i passi della gente che vi passeggiava talvolta si udiva una risata le parole giungevano monche ma il vento sospirava e tutte le voci e tutti i rumori si fondevano nel melanconico mormorio del fogliame e allorché quel mormorio taceva c'erano momenti di silenzio assoluto come se attorno ad essi tutto il creato avesse teso un orecchio attento alle parole di Nikola Gvostov che continuava a narrare storielle della sua infanzia vi ricordate di Varianca la filuola del pittore di stanze ora è moglie dello sciampatore Shapochnikov è diventata una gran dama si ha quasi paura di passarle accanto ed era allora una fanciulletta gracile e malatizza vi ricordate che una volta era sparita e che noi altri tutti i monelli della strada andammo a cercarla per i campi e nei burroni fu ritrovata nell'accampamento militare fuori la città e fu ricondotta in casa attraverso i campi quanto se ne parlò allora suo padre ci offrì del pan pepato e Varca appena vide la madre le disse sono stata dalla moglie dell'ufficiale la quale ne ha invitato a diventare sua figlia altro che sua figlia che bella ragazzetta era allora suoni indistinti salivano dal fiume come il sospiro di qualche petto gigantesco che soffrisse passava un vapore e il rumore dell'acqua agitata dalle ruote vibrava nell'aria il cielo era roseo mentre che intorno a Gwostef e al redattore le tenebre incominciavano a farsi più dense la notte primaverile veniva lentamente il silenzio diventava più completo più profondo e come soggiogato dalla quiete Gwostef abbassò la voce il redattore l'ascoltava senza parlare evocando nella sua memoria le scene del passato da lungo tempo svanito sì tutto ciò era stato e tutto ciò era stato migliore di quel che era allora è nella sola infanzia che è possibile avere l'anima libera scevra dal peso delle catene che si chiamano le condizioni della vita le dolorose congestioni della coscienza sono sconosciute all'infanzia come pure ignota la menzogna salvo quella menzogna infantile così innocua quante cose sono ignote all'infanzia e quant'è bella quell'ignoranza intanto si vive e la comprensione della vita si allarga man mano perché si allarga se si muore senza aver capito nulla e così Mitri Pavlovich vedete dunque che siamo uccelli dello stesso nido sicuro ma i nostri voli sono stati differenti e quando penso che l'unica differenza che c'è fra me e i miei compagni d'infanzia consiste unicamente nel fatto che non sono andato a ficcarmi il naso nei libri in qualche ginnasio allora mi sento un'amarezza e una nausea forse è la sola istruzione che fa l'uomo l'uomo è nell'anima nei sentimenti del prossimo e che valore ho io ai vostri occhi nessuno è forse giusto è giusto disse il redattore con tono distratto ma sincero Magbosdev si mise a ridere e riprese un momento permettete che cosa è precisamente giusta è forse giusto che io per voi sia una cosa vuota che io esista o no è tutt'uno per voi ve ne curate come un fico secco che bisogno avete della mia anima sono solo al mondo e tutte le persone che io conosco sono seccate a morte di me perché ho un'ingole cattiva e che mi piace fare degli scherzi alla gente perché anch'io ho sentimenti ed intelligenza mi sento offeso della posizione che occupo nella vita in che cosa sono inferiore a voi solo a causa del mio mestiere sì è così disse il redattore con la fronte corrugata fece una pausa e continuò con un tono di voce nel quale c'era una nota conciliante ma vedete qui bisogna applicare un altro punto di vista metri pavlovich a che serve un punto di vista non è mica ad un punto di vista che l'uomo deve dar prova di simpatia per il suo simile no ma per un impulso del cuore cosa significa un punto di vista io parlo dell'ingiustizia della vita si può forse illudermi con un punto di vista mi sento presso nella vita sono impedito nei miei movimenti perché non sono un dotto ma se voi altri dotti ragionaste non di punti di vista ma di qualche altro modo non dovreste dimenticarvi di me frutto dello stesso vostro campo ma trarmi a voi in alto fuori dall'ignoranza nella quale marcisco e fuori dall'amarezza dei miei sentimenti e con i vostri punti di vista dite non dovete farlo Gvostef ammiccò con l'occhio e trionfante guardò il suo interlocutore in faccia si sentiva ben disposto quella sera ed avva sfogo a tutta la sua filosofia frutto di lunghi anni di lavoro incoerente o improduttivo il redattore era confuso davanti a quell'attacco e si sforzava di determinare fra sé cosa fosse quell'uomo e che cosa si potesse opporre ai suoi discorsi e Gvostef come obbriacato dalle sue stesse parole continuava siete uomini intelligenti e mi farete cento risposte e tutto sarà no non dobbiamo e io invece vi dico dovete perché perché io e voi siamo gente della stessa strada della medesima provenienza voi non siete i veri signori della vita non siete i nobili con costoro il nostro conto è fatto subito ci diranno vattene al diavolo e ci andremo perché costoro sono aristocratici fin dall'antichità mentre voi altri siete aristocratici perché sapete la grammatica ed il resto ma voi altri siete dei nostri e posso pretendere da voi che mi mostriate il cammino della vita appartengo alla piccola borghesia e Krulev pure e anche voi che siete figlio di un diacono ma permettete disse il redattore in tono quasi supplichevole vi nego forse il diritto di pretendere ma interessava ben poco a Gvozdev di sapere ciò che negava o ammetteva il redattore sentiva il bisogno di dirgli quello che aveva da dire e si sentiva capace in quel momento di dire tutto ciò che l'aveva preoccupato e tormentato no permettete riprese egli e questa volta in un mormorio misterioso tirandosi verso il redattore con gli occhi animati e scintillanti pensate forse che è piacevole per me di lavorare ora per i miei compagni ai quali davo pugni in faccia in altri tempi mi è forse piacevole di ricevere dal signor giudice istruttore Krulev in casa di cui ho riparato i cessi ora sarà un anno di ricevere dico quaranta copecchi di mancia da lui che è un uomo dello stesso grado mio che si chiamava Mishka lo zuccheraio che ha ancora i denti guasti come li aveva anche allora qualche cosa di soffocante gli salì in gola tacque per un momento poi di botto gli sfuggì di bocca una bestemmia così oscena e così cinica che il redattore trassalì e si fece indietro dopo quel grido Dubozdev si avvallò per così dire di un tratto come se il fuoco si fosse spento in lui stette un momento così interrogandosi e non senti più in fondo al cuore nulla da dire non c'è altro disse con voce sorda e lui si fece ad un tratto il vuoto e la sensazione di quel vuoto gli arreccava una specie di snervamento il redattore lo osservava di soppiatto e cercava frattanto quel che avrebbe potuto dirgli bisognava dire qualche cosa di buono di vero di sincero ma in quel momento non trovò in sé né in testa né in cuore quello che gli sarebbe abbisognato era già da un pezzo che tutte le conversazioni sulle idee alte destavano in lui una sensazione di noia e di stanchezza quella sera era uscito per ripararsi e per avere pace aveva a bella posta evitato qualunque incontro con i suoi conoscenti ed ecco che era venuto quell'uomo con i suoi discorsi certo in quei discorsi come in tutto ciò che dicono gli uomini c'era una particella di verità quei discorsi non erano privi di un certo interesse e potevano fare il soggetto di un articolo di giornale ma bisognava pure dirgli qualche cosa tutto ciò che avete detto orora non sono cose nuove incominciò Dmitri Pavlovich sono anni ed anni che si parla dell'ingiustizia dell'uomo verso il suo prossimo ma forse i vostri discorsi sembrano una novità perché finora erano uomini d'un'altra condizione che parlavano così formulate le vostre idee in modo alquanto unilaterale e falso ma ancora il vostro punto di vista interruppe Gwosdev con una risatina ironica ah signori signori miei avete intelligenza sì ma il cuore a quanto pare orsù ditemi qualche cosa che convenga appunto al male di cui soffro ecco pronunciò queste parole con la testa abbassata e rimase così in attesa di una risposta l'angoscia cominciava di nuovo a stringergli il cuore il redattore lo guardò nuovamente con la fronte corrugata aveva una grande voglia di andarsene gli sembrava che l'ubriachezza invadesse sempre più Gwosdev e che era per questa ragione che si era così accasciato dopo i suoi discorsi esaltati guardò il berretto bianco che gli era caduto sulla nuca le gote butterate e i brividi provocanti di Gwosdev misurò con gli occhi tutta la sua persona robusta e nervosa e pensò fra sé che era l'operaio tipico e che se ebbene domandò Gwosdev ebbene cosa posso dirvi a dirvi francamente non mi sono ancora fatto un'idea netta e precisa di quello che avreste voluto sentire è precisamente così non potete dirmi nulla replicò Gwosdev con la solita sua risatina il redattore sospirò con un certo sollievo supponendo con la ragione che la conversazione fosse finita Gwosdev non lo importunerebbe più con domande imbarazzanti poi gli venne ad un tratto questo pensiero e se per caso mi battesse è così cattivo l'espressione del volto di Gwosdev durante la scena che si era svolta nella sala di redazione gli tornò alle memoria e lo guardò di sbieco con occhio sospettoso era già notte il silenzio era interrotto da canti lontani che venivano dalla direzione del fiume si cantava in coro e le voci di tenore arrivavano indistinte attraverso il fogliame degli alberi si vedevano le stelle ogni tanto un ramo si agitava e si sentiva un leggero fremito di foglie ora verrà la rugiada disse il redattore con tono prudente Gwosdev trasalì e si voltò verso di lui che cosa avete detto dico che verrà la rugiada ed è poco sano ci fu un silenzio un grido risuonò sul fiume ehi della barca me ne vado disse il redattore arrivederci e se bevessimo po' di birra propose bruscamente Gwosdev poi aggiunse con una risatina fatemi quest'onore scusatemi non posso a quest'ora e poi è tempo sapete Gwosdev si alzò e guardò il compagno con aria di cattivo umore Dmitri Pavlovich si alzò pure e gli tese la mano dunque non volete bere un po' di birra con me ebbene che il diavolo vi porti terminò Gwosdev rimettendosi il berretto in testa con un gesto assai brusco l'aristocrazia per due copecchi ebbene mi ubriacherò da solo il redattore gli voltò bravamente le spalle e si mise a risalire il suo sentiero senza dire una parola quando gli passò davanti ritirò la testa fra le spalle come se si fosse aspettato di ricevere una mazzata Gwosdev camminò a gran passi nella direzione opposta ehi là della barca diavoli venite dunque e l'eco spandendosi mollemente fra gli alberi ripete dunque grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.